Al via tamponi per riscontrare la positività al covid anche nei laboratori privati della regione Campania. L'ente regionale ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco delle strutture private accreditate per effettuare gli esami molecolari. 120 al momento i laboratori accreditati in Campania, ma altri, come fanno sapere dall'ente regionale, saranno inseriti nell'elenco non appena avranno completato la registrazione sulla piattaforma regionale. Tre i centri che forniscono questo importante servizio nell'Ariaparco, ad Agropoli l'Istituto Santa Chiara della dottoressa di Buono, a Capaccio il laboratorio inglese SRLS, mentre nel ballo di Diano, nella città di Padula, il centro analisi chimico-cliniche biochimica SRL.